Ciao Annalisa, ti mandiamo tanti saluti e ti auguriamo una presto guarigione. Con il nostro affetto e la nostra preghiera posso tu tornare a più presto insieme ai tuoi cari, alla tua famiglia e certamente insieme con noi. Auguri di presto guarigione. Annalisa, ciao Annalisa, ciao Annalisa, ciao ti aspettiamo presto.